Una tre giorni nel mondo dell'automobile, una full immersion con conferenze, workshop e attività. Al Ciarezzo ha così festeggiato i suoi primi 100 anni alla Casa dell'Energia. Come evento conclusivo, conclusivo di un anno in cui l'Automobile Club ha voluto, in maniera diffusa appunto su tutto l'anno, evidenziare quelle che sono le proprie attività istituzionali principali che svolge da ben 100 anni e che continuerà a svolgere. In queste tre giornate l'Automobile Club ha voluto effettuare e mostrare un'esposizione di auto importanti fuori, una mostra fotografica di 100 foto per 100 anni e una serie di convegni sull'educazione e sicurezza stradale. Oltre a questo anche il settore dello sport, per questo qui sono stati messi a disposizione di tutti i giovani simulatori di rally di Formula 1, nonché di scuola guida. Abbiamo fatto una serie di incontri con i ragazzi delle scuole per dimostrare che ovviamente al volante ci vuole un'accortezza per evitare anche tutta quella serie di incidenti che oggi sentiamo purtroppo nella cronaca. Ringrazio personalmente Patrizio Bertelli per aver messo a disposizione queste auto all'interno del nostro cortile che hanno adornato questa tre giorni dedicata all'automobilismo e alla sicurezza. Nella giornata dedicata agli sportivi presente anche il team Rossi 4x4. Proiettati alla partenza per la Monaco Dakar 2024 che tra 12 giorni saremo in verifica per prendere poi via Monte Carlo il 30 di dicembre. L'equipaggio è pronto, siamo qui io e Jacopo a fare una piccola conferenza per raccontare l'avventura che faremo e le avventure che abbiamo già sostenuto con sempre il motore più potente che è la passione. Partiamo dalla preparazione lunga, tanto allenamento, tanto allenamento mentale perché bisogna essere sempre calmi anche nelle peggiori situazioni e poi quando saremo giù il percorso lo dobbiamo affrontare giorno per giorno perché fino a pochi secondi dalla partenza non avremo in mano quello che ci aspetta la giornata quindi va vissuta momento per momento.